Cavalli allineati dietro al mezzo meccanico, pronti al lancio, macchina che stacca in questo momento, Pina S, Plutonio M e Penelope vanno a contendersi la testa della corsa, Pina S tiene la corda e alla prima piegata si porta al comando con Penelope che va praticamente ad avvicinare, quasi ad apparigliare il numero due pilotato da Cassani, più indietro invece c'è Plutonio M, 14.3 per i primi 200 di corsa, la lotta tra Pina S e Penelope, un testa a testa tra due con poi il Pina S che riesce a tenere la corda e va al passaggio 400 in vantaggio, 28.9, molto buona la fondata iniziale anche perché sta schermaglie tra Pina S e Penelope, si va così alla piegata con il numero due pilotato da Cassani alla comando a dettare il ritmo della corsa, passaggio 600, avvenuto con il tempo di 45.4, si torna a transitare adesso sotto le tribune il gruppo abbastanza compatto con il numero due di Pina S e al comando, rimangono comunque vicini Plutonio M e il 5 di Principe Rosse, più indietro invece Penelope e Pecunias, 1.01.6 il passaggio al mezzo miglio, si va verso la piegata con il numero due di Pina S, sempre lì al comando vicino c'è Principe Rosse pilotato da Antonio Greppi, 1.17.3 il passaggio al chilometro, la situazione quindi al comando praticamente dalle prime battute, numero uno proiettile GV squalificato corsa finita intanto, corsa finita per proiettile GV, siamo a 400 dall'epilogo, il 2 di Pina S ancora al comando, prova a contenere Principe Rosse che lì a mettere pressione all'altezza del sulchi della battistrada, siamo a 200 circa dalla conclusione, completamento della piegata, eccoli cavalli pronti all'imbocco della retta d'arrivo con Pina S in vantaggio, vediamo se resiste anche al 6 di Pecunias che in retta prova a passare, eccolo Pecunias, Pecunias, Pecunias va a vincere davanti al 2 di Pina S, la terza piazza dovrebbe essere quella di Plutonio M, quindi un ordine che dovrebbe essere 6-2-3, in questo caso il condizionale d'obbligo in attesa dell'ordine d'arrivo ufficiale, è quindi Pisacane con Pecunias, la portessa a casa del successo in questa quinta alberata di Padova.